Questa, la riconoscete tutti, è una tessera sanitaria che già ora ci serve per alcuni servizi. Vogliamo chiedere alla giunta regionale toscana se intende incentivare l'utilizzo di una carta come questa anche per poter andare verso una consultazione online direttamente ai cittadini, addirittura un referendum online. Perché no investire anche nei lettori di smart card che potrebbero dare uno spazio di democrazia diretta in più alla regione toscana? Questa è una delle domande che faremo insieme ad altre in Consiglio regionale legate alla nostra interrogazione e tutto questo per poter rendere la Toscana e i cittadini toscani più vicini alla politica, più vicini alle scelte che li riguardano direttamente.